Un viaggio tra intrighi e segreti. Speciale Endless Love. Cosa si cela dietro la tragica storia di Tufan? Oggi vi porteremo nel cuore oscuro di Endless Love, dove Asu ed Emir tessono una rete di inganni così complessa da lasciare senza fiato. Nel nostro speciale di oggi scoprirete il crudele destino di Tufan, come la sua fedeltà lo ha trasformato in una vittima sacrificabile. I piani segreti di Asu ed Emir. Quale spietata strategia li ha spinti a distruggere tutto ciò che avevano intorno? Kemal e la sua battaglia. Come sopravvivere a un intrigo che cerca di spezzarlo, fisicamente ed emotivamente. Ogni passo sarà carico di tensione e mistero. Che cosa spinge davvero Asu ed Emir a compiere azioni così estreme? E cosa rimarrà di chi si trova sulla loro strada? Restate con noi per scoprirlo. Non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere un like al video per non perdere i prossimi aggiornamenti esclusivi sulle vostre serie tv turche preferite. Asu, il cui cuore è spezzato e l'anima profondamente ferita dalla decisione di Kemal di divorziare, si trova sopraffatta da un mix di dolore e rabbia. Determinata a vendicarsi, inizia a mettere in atto un piano meticoloso e spietato. Il suo primo passo è inscenare la propria morte, un'impresa che richiede una precisione assoluta per evitare di lasciare qualsiasi traccia sospetta. Ogni notte, Asu trascorre ore a pianificare ogni dettaglio, dal momento in cui finge di essere scomparsa, fino a come ricostruirà la scena del crimine. Convoca Tufan, il suo fedele alleato, e insieme lavorano senza sosta. Asu si reca alla clinica privata, dove corrompe un'infermiera per procurarsi una sacca del proprio sangue, sapendo che diventerà una prova schiacciante della sua presunta morte. Ogni gesto è calcolato, semina tensioni tra i vicini, diffondendo voci di litigi insormontabili tra lei e Kemal, creando un clima di sospetto e malcontento. Le serate sono trascorse a manipolare le conversazioni, a creare alibi falsi e a orchestrare incontri segreti, rafforzando la sua determinazione. Organizza incontri con persone fidate, assicurandosi che ogni testimonianza possa avallare la sua storia. Quando tutto è pronto, invita Kemal a casa con la scusa di firmare i documenti del divorzio. L'atmosfera è carica di tensione, mentre Kemal, ignaro del vero scopo dell'incontro, varca la soglia. Appena dentro, Asu agisce con una freddezza glaciale. Una puntura al collo lo immobilizza in un istante, lasciandolo privo di sensi. Insieme a Tufan, allestiscono una scena del crimine perfetta. Spargono il sangue di Asu sul letto, lasciano capelli di Kemal sul cuscino e una piccola ferita sulla sua mano, macchiando i suoi vestiti di rosso vivo. Un coltello da cucina insanguinato viene posizionato strategicamente accanto a lui, completando l'immagine di un omicidio atroce. Con l'aiuto di Ali, un addetto alle pulizie delle vetrate del grattacielo, Asu e Tufan fuggono attraverso la finestra, scomparendo nell'oscurità della notte. Ogni dettaglio, dalla scelta del coltello alla distribuzione del sangue, è pensato per incastrare Kemal senza lasciare alcuna possibilità di scampo. La freddezza e la determinazione di Asu brillano in ogni azione, mostrando la sua volontà incrollabile di sacrificare tutto pur di ottenere la vendetta che brama. Tufan, da sempre il braccio destro di Asu, accetta di aiutarla nel suo piano con totale devozione. Crede fermamente nelle sue ragioni, ignorando i primi segnali di pericolo che iniziano a emergere. Man mano che il piano prende forma, Tufan nota piccoli indizi che suggeriscono qualcosa di sbagliato, ma la sua lealtà lo porta a ignorare i dubbi iniziali. Ogni azione che compie lo lega di più alla trappola, facendolo sentire sempre più intrappolato in una rete di inganni. Lavorano insieme in segreto, mascherando le loro vere intenzioni dietro facciate di normalità. Tufan si immerge completamente nel piano, organizzando incontri e gestendo le operazioni con precisione. Ma la tensione cresce quando inizia a vedere gli effetti devastanti delle loro azioni sulla vita di Kemal e delle persone a loro vicine. Ogni volta che osserva l'angoscia di Kemal, un senso di colpa inizia a serpeggiare dentro di lui, minando la sua fiducia in Asu. Le serate trascorse a manipolare le conversazioni e a orchestrare incontri segreti pesano sul suo spirito. Tufan si rende conto che sta diventando una pedina inconsapevole nelle mani di Asu, utilizzato per raggiungere i suoi scopi personali senza alcuna considerazione per le conseguenze. La sua figura emerge come una vittima inconsapevole, intrappolata in un gioco di potere e tradimento. La tensione aumenta quando Tufan comprende l'impatto devastante delle sue azioni, lacerando il suo senso di lealtà e alimentando un crescente conflitto interiore. Emir, fratello di Asu, è mosso da una profonda sete di vendetta dopo la presunta morte della sorella. Convinto della colpevolezza di Kemal, Emir decide di intraprendere una serie di azioni violente per ottenere giustizia. Ogni giorno, la sua determinazione cresce, alimentata dalla rabbia e dal dolore che lo consumano. Emir organizza incontri segreti con uomini di fiducia, pianificando meticolosamente ogni dettaglio delle sue operazioni. Le sue notti sono trascorse a studiare documenti, raccogliere prove falsificate e preparare gli strumenti necessari per le sue tortuose interrogazioni. Quando Emir cattura Kemal, lo porta in un luogo isolato, lontano da occhi indiscreti. Qui inizia una serie di torture fisiche e psicologiche, sperando di estorcergli una confessione falsa che lo incrimini ulteriormente. Kemal, debilitato e terrorizzato, cerca disperatamente di resistere, ma la determinazione di Emir non conosce limiti. Ogni colpo, ogni domanda, è mirata a spezzare la volontà di Kemal, trasformando l'interrogatorio in un incubo senza fine. La tensione tra Emir e Kemal aumenta costantemente. Ogni gesto di Emir è carico di odio, ogni parola è un'arma che colpisce profondamente. La sua ossessione lo consuma completamente, offuscando ogni traccia di umanità. Emir non si ferma davanti a nulla, pur di vedere Kemal cadere, e il suo comportamento diventa sempre più spietato e imprevedibile. La dinamica tra i due si fa sempre più tesa, creando una situazione di estrema tensione che tiene lo spettatore con il fiato sospeso. Una serie di indizi inaspettati porta Emir a sospettare che Asu non sia realmente morta. Questa scoperta cambia completamente la dinamica della storia, spingendo Emir a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere. Inizia così una caccia alla verità che lo porta a investigare più a fondo, rivelando segreti nascosti e connessioni sorprendenti. Emir scopre che Asu ha orchestrato tutto con una precisione tale da renderla quasi impossibile da smascherare. La sua paranoia cresce e il desiderio ossessivo di scoprire la verità lo porta a rischiare la propria sicurezza e quella di chi lo circonda. La tensione raggiunge nuovi livelli mentre Emir si avvicina sempre più alla verità, ignaro del pericolo che lo attende dietro ogni angolo. Ali, un personaggio apparentemente secondario, rivela un'informazione cruciale. Asu è ancora viva. Questa scoperta sconvolge Emir, che inizia a mettere insieme i pezzi del puzzle con nuove prospettive. Ali, inconsapevolmente coinvolto nel piano di Asu, diventa una figura chiave nella rivelazione della verità. La sua testimonianza conferma i sospetti di Emir e lo spinge a intensificare le sue indagini, portando a una serie di eventi che cambieranno il corso della storia. Emir, ora consapevole della verità, si immerge ancora di più nel suo desiderio di vendetta, determinato a smascherare Asu a ogni costo. Questo capitolo approfondisce il ruolo di Ali e mostra come la sua rivelazione influenzi profondamente le azioni di Emir, elevando il conflitto a un nuovo livello di intensità e pericolo. Secondo voi, Asu merita di essere smascherata o riuscirà nel suo piano? Scrivetelo nei commenti. Con il piano di Asu che inizia a svelarsi, diventa chiaro che Tufan è destinato a diventare una pedina sacrificabile. Asu, consapevole che la sua copertura potrebbe essere a rischio, decide di orchestrare la morte di Tufan in modo che sembri un tragico incidente. Si prepara meticolosamente, scegliendo ogni dettaglio con precisione. Asu organizza l'incidente in un luogo isolato, assicurandosi che tutto sembri casuale e inaspettato. Nel giorno scelto per dare inizio alla fuga, Asu si prepara a mettere in atto l'ultimo, crudele passo del suo piano. Emir, al corrente del tutto e determinato a eliminare Tufan, incarica uno dei suoi uomini di accompagnarlo nel bosco dove si trova Asu, armato di fucile e pronto a tutto. Asu, con un viso segnato da finte ferite e vestiti sporchi per simulare violenze, finge di essere stata rapita da Tufan e gli invia un disperato messaggio di aiuto. Quando Tufan arriva al rifugio, è confuso e ignaro. Asu, con voce tremante, lo implora di salvarla. «Ti prego, portami via da qui, non ho nessun altro!» dice con un'espressione disperata. Spinto dalla lealtà che ha sempre avuto per lei, Tufan non fa domande e la segue nel bosco, cercando una via di fuga. Le foglie scricchiolano sotto i loro piedi. Il silenzio del luogo è rotto solo dal fruscio degli alberi mossi dal vento. Improvvisamente, un rombo assordante squarcia l'aria. Un camion sbuca da una curva stretta, lanciato a tutta velocità in un sentiero nascosto nel bosco. Tufan si gira appena in tempo per vedere il veicolo che si avvicina. Non ha il tempo di reagire. Il camion lo travolge brutalmente, scaraventandolo a terra. L'impatto è devastante. Il corpo di Tufan giace immobile sul terreno, segnato dalla violenza dell'incidente. I suoi occhi si chiudono lentamente e il suo respiro si spegne. Dalla distanza, Emir osserva la scena con un sorriso soddisfatto. Il suo uomo, complice dell'incidente, si allontana dal luogo senza lasciare traccia. Asu resta immobile, gli occhi puntati sul corpo senza vita di Tufan. La tragedia è consumata e il loro piano diabolico è portato a termine. La strada nel bosco è illuminata debolmente dai fari di un camion che sfreccia senza esitazione. Tufan giace a terra, il corpo immobile dopo l'impatto devastante. Le ombre degli alberi sembrano abbracciare il luogo del dramma, avvolgendolo in un silenzio irreale. Asu è lì, immobile, osserva la scena con il viso segnato da un'espressione indecifrabile. Emir, indisparte, guarda soddisfatto il risultato del suo piano. Il camion si allontana nella notte, lasciando dietro di sé solo il rumore lontano del motore e l'eco di una tragedia consumata. Più tardi, Kemal e Nian arrivano sul luogo. La scena davanti a loro è straziante. Il corpo senza vita di Tufan è coperto da una sottile coltre di foglie, come se la natura cercasse di nascondere la brutalità di ciò che è accaduto. Kemal si inginocchia accanto al corpo, il viso segnato dal dolore e dalla rabbia. Nian rimane accanto a lui, una mano sulla spalla per sostenerlo, mentre entrambi cercano di dare un senso a questa crudele realtà. L'atmosfera è carica di tensione. Gli sguardi di Kemal e Nian si incontrano, un misto di rabbia e determinazione prende forma nei loro occhi. Analizzano ogni dettaglio, cercando indizi che possano spiegare chi ha orchestrato tutto questo. Il loro silenzio è interrotto solo dal suono delle foglie mosse dal vento. Una colonna sonora inquietante per quel momento. Più tardi vediamo che Asu si ritrova davanti alla tomba di Tufan. La luna piena illumina il cimitero. Il freddo della notte penetra fino alle ossa. Cade in ginocchio davanti alla lapide, le mani tremanti mentre le lacrime scorrono sul suo volto. «Vorrei poterti dire che non l'ho fatto», sussurra, la voce rotta. «Ma ti ho ucciso». Le parole escono come un peso insopportabile, lasciando nell'aria un silenzio pesante. «Ho dovuto farlo», continua, la sua voce quasi impercettibile. «Dopo tutto quello che è successo». Le sue mani si stringono sul terreno, i singhiozzi si fanno più forti, il vento porta via le sue parole, ma la sua disperazione rimane fortissima. Il contrasto tra la freddezza con cui ha pianificato la morte di Tufan e il rimorso che ora prova si manifesta in quel monologo solitario. La morte di Tufan segna un punto di non ritorno nella trama di Endless Love, dimostrando come l'ambizione e la sete di potere possano distruggere legami affettivi e portare a gesti estremi e distruttivi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale Serie TV Turchia Italia per rimanere sempre aggiornati sulle prossime anticipazioni. Grazie per averci seguito fino a qui. Il vostro supporto è fondamentale per noi. Un abbraccio a tutti e ci vediamo nel prossimo video.